Interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati nei prossimi giorni presso il Pala Impastato e Palagrin, in località Moio ad Agropoli, ad annunciarlo il sindaco Adamo Coppola. In passato, soprattutto presso il Pala Impastato, numerosi sono stati gli atti vandalici a danno della struttura e più volte sono stati gli appelli sui social dei cittadini all'amministrazione comunale di intervenire per ridare dignità a quella struttura. Nel caso del palazzetto al centro c'è un po' meno il problema perché naturalmente siamo in un posto centrale quindi più visibile e qui l'implementazione delle camere è prevista, quindi credo che questo sia assolutamente sufficiente perché abbiamo avuto dei problemi più che altro di graffiti vicino alle strutture. Mentre effettivamente hai fatto bene a ricordarmi, io accennavo sulla pista di atletica, ma la necessità di ritrovare nuovi spazi per il basket ci ha spinto, come noi avevamo già un'intenzione per l'atto di fare, a intervenire anche sul Pala Grin e sul Pala Impastato. Lì degli eventi di manutenzione straordinari verranno effettuati nei prossimi giorni e questo naturalmente ci consentirà di rendere fluibili a 360 gradi. Quindi è chiaro che lì, come voi forse vi abbiamo detto in altre occasioni, andremo invece a Moio, essendo una zona più periferica, a dover chiudere tutta quanta la struttura. Sono state già viste, come avete visto, in passato delle cancellate che verranno completate nelle prossime settimane e lì sostanzialmente abbiamo una struttura nuova che sta per cominciare i lavori al campo pulito, dove sostanzialmente la recinzione esterna verrà smontata perché è stata immaginata una recinzione diversa lì per effetto di un finanziamento sovrò comunale e quella recinzione verrà spostata intorno alla Pala Grin e al Pala Impastato per chiudere definitivamente e metterle in sicurezza. Questo è un dispiacere naturalmente perché questo spinge l'idea che noi dobbiamo difenderci da coloro che vengono a danneggiare i nostri impianti. Questo è un fatto brutto, negativo, però necessario. Però questi provvedimenti verranno presi nelle prossime settimane. Ricordo che il 19 di questo mese finalmente approveremo il bilancio e da quel giorno sarà possibile anche avviare tutti questi lavori che abbiamo detto.